Mimosa all'ippodromo da Angela, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti. La splendida location dell'ippodromo fa da cornice alla degustazione delle nostre prelibatezze, l'eccezionalità delle specialità di mare. Piatti per tutti i gusti, ricchi antipasti e gustose specialità di terra, dolci che ti prendono per la gola, il tutto accompagnato da tanta buona musica per vivere i tuoi eventi più importanti e per godere di un meritato relax. Esperienza, professionalità, qualità e convenienza. Ti aspettiamo presso la struttura dell'ippodromo Paolo VI, via per Montemesola 1200 Taranto. Vivremo insieme un'estate da favola!